bravo 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 ma tu hai visto come se ne parto e torna indietro lui bravo bravo e poi c'è pure un bel passo non va a cuore no 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 lui sta cercando un cartufo tutti questi pazzi che dà lui cerca un cartufo e non va a cercarne né uccelle né altro animale lui cerca sciarti da dove bravo 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 cerca bravo e quello è un po quanto raspa raspa compito bravo sciarti sei grande bravo aspetta non mi bravo 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 bravo